Ben ritrovati in primo piano dai danni del maltempo alla crisi da Covid, cercheremo di capire oggi come riparte il settore dell'agricoltura e lo faremo con il direttore della Coldiretti Campani, il dottore Salvatore Loffreda, ben ritrovato intanto direttore, grazie come sempre per la sua disponibilità. Allora partirei proprio da questa nuova andata di maltempo che ha devastato i territori di Irpini e Sanni, intanto le chiedo subito che conseguenze ha avuto, ha prodotto sulle coltivazioni del nostro territorio. Io vorrei fare una premessa, il problema è che ci sono degli alluvioni o delle acque torrenziali, ci sono sempre state, io quello che vedo al momento in cui facciamo la conta dei danni e che comunque noi non riusciamo a fare manutenzione dei territori e questo va ad aggravare, anche se abbiamo una bioposità più torrenziale, le problematiche. Tanto è vero che io ho visto per esempio in Irpina che molti centri storici sono stati colpiti da questa situazione, non tanto laddove l'uomo, l'agricoltore riesce a mantenere il territorio sano, i danni sono minori. Noi vediamo questi fenomeni, certo, comunque i danni ci sono e dobbiamo ripartire, ma sono molto fiducioso perché come sempre noi riusciamo a far rimarginare queste ferite e non piangendoci sempre addosso, ma noi del mondo agricolo immaginiamo sempre che quando il problema c'è lo sottoponiamo, ce lo carichiamo si riparte sempre alla grande. Un settore pronto a ripartire dunque, intanto il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha nominato proprio un assessore all'agricoltura, voi come giudicate intanto questa decisione che in qualche modo è una svolta rispetto al passato? Certo, dopo dieci anni di gestione di un consigliere come delega siamo estremamente contenti, visto che noi è stato oggetto del nostro manifesto politico che abbiamo presentato a tutti coloro che si erano candidati come Presidente, a cui noi avevamo chiesto a dire la verità, sì l'assessorato dell'agricoltura, ma un assessorato dell'agroalimentare, perché io credo che oggi solo il PSR non potrà dare soltanto la forza per gestire un mondo agricolo che è in grande dinamismo in positivo, vedi anche i giovani che si sono insediati e credo che al momento noi riusciamo a creare questo comparto, definire l'assessore non dell'agricoltura ma dell'agroalimentare dove l'agroindustria crea sempre più progetti di filiera, io credo che possa essere un ottimo volano di sviluppo. In questi giorni ci incontreremo con l'assessore, già abbiamo creato alcuni appuntamenti alla quale noi sottoporremo quello che per noi non è più degli interventi appoggia per continuare a finanziare trattori fino a se stesso, ma quantomeno creare, finanziare progetti di filiera ma soprattutto nei distretti, è lì che noi cercheremo di trovare e di riscrivere un'agricoltura moderna che è a passi con i tempi. A suo giudizio direttore ci sono le condizioni per una effettiva ripresa e soprattutto dal nuovo assessore all'agricoltura che cosa vi aspettate, quali sono le vostre istanze? Allora premesso che noi con Nicola Caputo che fanno i miei saluti, i miei auguri di buon lavoro non dobbiamo partire da zero come si faceva sempre. Avere una persona che già per esperienza su Bruxelles ma soprattutto per la sua esperienza negli ultimi due anni, visto che ha dovuto gestire con grande difficoltà la chiusura del PSR che ci auguriamo che in questi giorni troviamo la soluzione per poter creare le condizioni di uno scorrimento della gradatoria e liquidare quanto più pratica possibile e insediare circa 2000 giovani che nel frattempo in agricoltura si sono insediati. Se noi vediamo questi giovani dove hanno fatto delle scelte di vita in agricoltura paradossalmente le aree interne hanno una percentuale maggiore di aziende che si vogliono strutturare ma con mentalità. Io che ho la possibilità di vedere non solo l'esperienza di Avellino nella mia qualità di direttore di Avellino ma soprattutto di direttore regionale di Coldiretti, io vedo che questo dinamismo lo si vede soprattutto nell'Irpinia e soprattutto nell'arte Irpinia dove più start up sono sorte, più idee sono sorte e voi ne siete una testimonianza vivente con le vostre trasmissioni e vi ringrazio per questo, per la vostra grande attenzione che ponete nel mondo agricolo perché credo che raccontate uno spaccato di questa provincia e regione che effettivamente sta vivendo un momento estremamente positivo. Ecco intanto parliamo anche di questa crisi da Covid che ha avuto naturalmente dei riflessi anche rispetto al vostro settore. Le chiederei intanto una prima valutazione su questa stretta decisa dal governatore De Luca che rischia di penalizzare soprattutto gli agriturismi. Lei che cosa dice? Io come crisi di Covid voglio fare prima una considerazione nel senso di dire che noi del mondo agricolo non ci siamo mai fermati, anzi abbiamo garantito che sulle tavole e sui scaffali le terrate alimentari fossero sempre presenti e abbiamo evitato quello che era la grande preoccupazione di marzo che potevamo avere un problema di accaparramento e di prezzi che crescevano in dismisura per la mancanza di prodotti. Credo che l'attenzione è tanta, non ci potremmo sicuramente permettere un altro lockdown e in virtù di questo io credo che con grande intelligenza che si è dimostrata in Campania nell'affrontare questa crisi il governatore abbia ritenuto di poter non certamente aiutare ma regolamentare. Perché molte volte sono alcuni atti di alcune persone che poi fanno arrivare a questa situazione. Noi non dovevamo avere una movita serata così spinta. Sicuramente se saremmo stati molto più bravi non saremmo arrivati alle conclusioni. Io credo che gli atteggiamenti del governatore sono quelli di cautelare e grazie a Dio, se noi vediamo i morti in Campania, certamente dei 460 è un numero enorme. Però voglio dire che grazie a Dio è abbastanza contenuto. Io mi auguro che questa stretta possa affrontare un inverno con tanti punti interrogativi nell'attesa che il vaccino possa esserci. Ecco, sicuramente questa crisi da Covid ha condizionato le aziende agricole e mi riferisco in particolare ad una serie di speculazioni che pure si sono registrate sui prezzi dei prodotti. Ecco, lei che cosa dice? Noi dobbiamo dividere alcuni settori dell'agricoltura perché ci sono dei settori che hanno fatto business, si sono affermati sul territorio perché hanno garantito la presenza e mentre in virtù di alcune attività, ma soprattutto ad Avellino, noi la crisi l'abbiamo sentita soprattutto perché abbiamo uno dei prodotti più importanti che è il vino e con la ristorazione chiusa, con l'oreca ferma, chiaramente oggi noi abbiamo la possibilità, abbiamo le cantine piene. Però anche qui abbiamo ancora dimostrato una volta che nonostante le cantine hanno i loro serbatoi pieni, noi comunque la campagna dell'uva non è stata disastrosa così come nella fase iniziale dove i prezzi dell'uva stavano cadendo precipitosamente. Siamo riusciti a contenere e credo di poter annunciare che da qualche giorno, così come nel primo tavolo che abbiamo fatto con i governatori il giorno dopo delle elezioni, abbiamo messo molto attenzione, uscirà a giorni in una misura che possa aiutare le cantine a smaltire. A me piace molto raccontare quello che ho immaginato nel dire in questa misura che dovrà uscire e che noi come Coldiretti abbiamo sottoposto al governatore di dire, ritorniamo non tanto a pensare al Giappone e alla Cina che in questo momento per noi diventa difficile ma soprattutto a quella ristorazione campana. Noi andiamo nella ristorazione campana e molte volte troviamo nella carta dei vini che non ci sono vini campani e troviamo tranquillamente altri vini. Allora io dico facciamo sempre in quel ragionamento che Coldiretti gli piace fare di sinergia e di filiera che chi compra un ristoratore della Costiera, della Penisola, della Valle Ristorazione che compra due cartoni e uno ne possa averlo gratis dove una misura possa integrare quel cartone perché diventa un modo per pulire le cantine ma soprattutto anche per posizionare i vini campani in Campania. Sicuramente si scontano dei ritardi da questo punto di vista soprattutto per quanto riguarda la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici. Ci sono delle produzioni di eccellenza che secondo lei potrebbero effettivamente rilanciare l'economia locale? Guardi, io sono stato attore di una rifondazione anche del consorzio. Noi avevamo il consorzio dei vini che dopo 13 anni non è riuscito ad avere il riconoscimento e io sono stato uno tra quelli che ha cercato di far ragionare le varie anime di questo consorzio con grande difficoltà ma ci siamo riusciti che da un anno a questa parte il consorzio sta cominciando ad assumere un ruolo molto importante perché io ricordo sempre a me stesso qual è il ruolo del consorzio di tutela, quello di programmare una produzione, quella di soprattutto promuovere il marchio consorzio dei vini irpini e soprattutto tutelarlo. E credo che se questo ruolo lo andiamo a fare meglio e con più capacità noi acquisiamo quell'autorevolezza che il consumatore sicuramente ci riconoscerà e ce lo auguriamo. E stiamo lavorando in questa direzione. Senti ma secondo lei si può davvero scommettere sull'agricoltura e sulla enogastronomia per rilanciare in queste zone interne della Campania sia lo sviluppo sia l'occupazione? Guardi, lei mi fa una domanda che molti giovani mi stanno ponendo in questi ultimi due o tre anni. Io sono molto fiducioso. Le dico perché. Perché se noi immaginiamo che il territorio vada manutento da parte di qualcuno io credo che quel ruolo lo si possa attribuire al mondo agricolo. Nelle aree interne se non c'è un rilancio dell'agricoltura, i nostri borghi della bellissima Erpinia, i castelli che tanto sono decantati, ma soprattutto i paesi delle aree interne, con un'agricoltura debolissima non ci possono... Cioè voglio dire, se noi tuteliamo queste aree, significa che troviamo quella possibilità che il mondo agricolo la possa fare alla grande e ragionare anche alla grande. Certo, a chi si insedi in agricoltura non può essere con quella mentalità di qualche anno fa. C'è lo spirito, c'è il rischio di impresa che va perseguito, ma non deve perdere un business plan, cioè la capacità di capire quanto costa un litro di latte, quanto costa un litro di vino e arrivare sui mercati competitivi. Perché noi molte volte il mondo agricolo, perlomeno quello del passato, è riuscito soltanto a scaricare i costi sul mercato e molte volte noi siamo usciti fuori dal mercato. E questa è la capacità di un imprenditore che si vuole insediare e debba garantire la capacità imprenditoriale per una qualsiasi attività. D'altra parte, tutte le attività di successo devono scontare la capacità di intraprendere capendo qual è il costo di produzione di un prodotto che fa. Lo si fa in agricoltura, lo si fa nell'industria, lo si fa nell'agroalimentare, lo si fa su tutto. Ecco perché noi riteniamo che se con molta fiducia i giovani devono guardare a progetti di filiera che possono determinare l'aiuto dell'accompagno in un ragionamento globale di sviluppo e non pensare soltanto alla propria azienda o al suo insediamento. Perché se tu ti insedi in una zona dove sei solo tu e senza una capacità di intraprendere insieme con gli altri, voi capite molto bene che è diventata molto più difficile. Allora, questo ragionamento, anche se io dico, se molte volte noi non cooperiamo la cooperativa, io molte volte se i problemi sono di carattere finanziario, un problema messo in cooperativa diventano otto problemi. Il problema è che senza quello spirito imprenditoriale, io dico che non bisogna intraprendere, non soltanto in agricoltura, ma in qualsiasi attività, se sia un negozio, se sia un'attività di ristorazione, se sia un alberghiero, quello che sia, voglio dire. È la capacità di intraprendere con questo tipo di mentalità. Per me molto rimane un'attività, è una questione di mentalità. Certo, ci sono sicuramente prospettive interessanti. Il rapporto con la Regione, per chiudere questa nostra intervista, direttore, qual è il suo telegramma al governatore De Luca? Beh, io prima di tutto devo dare atto al governatore, che è stata la Regione che più ha sostenuto l'agricoltura in un momento di chiudere. Se noi vediamo gli 80 milioni che sono stati destinati al comparto Bufalino, al comparto di Floro Viva Ismo, e 45 milioni a tutte le aziende iscritte all'Inps, che fanno e vivono con l'agricoltura, io dico che un buon sostegno in un momento di crisi c'è stato. Chiaramente, se questa attenzione sia stata per un momento di crisi, io sicuramente ci troveremo il governatore e questa amministrazione, come faccio i miei auguri, che si è insediata qualche giorno fa, sicuramente di continuare su questa strada, perché hanno dimostrato di mettere l'agricoltura al centro delle loro agende. Certamente, allora abbiamo concluso, io ringrazio il direttore di Coldiretti Campania, Salvatore Loffrede, che è stato nostro ospite, ringrazio come sempre il regia per noi Aldo Fenizia, grazie a quanti ci hanno seguito. Arrivederci. Grazie a tutti.